Musica L'eterno Martín Palermo al 93esimo riporta avanti l'Argentina Il tuffo di Maradona sulla piscina del Monumental per questo gol che rende ancora più incredibile un finale impensabile il pareggio di Rechipo, il sinistro di Palermo che a dieci anni abbondanti di distanza torna a segnare il nazionale E' una vita da film, quella di Martín Palermo che ancora una volta si conferma a dispetto dell'età un bomber implacabile, è tenuto in posizione regolare, c'è sempre in queste situazioni risolve con il sinistro e regala uno spiraglio di luce nella buffera dell'Argentina